Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono andato a vedere Wish al cinema, lo so che state aspettando che vi parli del doppiaggio e fidatevi, arriverà quel momento, cioè è proprio inevitabile. Ma prima parlerò anche un po' del film, facciamo le cose con ordine. Mettiamo il solito disclaimer, eccovelo qua, ed iniziamo. Senza girarci troppo attorno, mi è piaciuto? Sì, in linea generale sì, ma adesso approfondisco. Sono andato a vederlo con aspettative basse e alla fine non è stupendo, ma non è neanche orrendo, è solo debole come film, a tratti mediocre, ma gradevole. Fidatevi c'è roba targata Disney di gran lunga peggiore di Wish. Ad esempio per me è molto meglio di molti live action e soprattutto di Strange World. Tutto questo però come film a sé stante, però per quello che è realmente, ovvero il film per i cento anni della Disney, a cuor leggero vi dico che secondo me è inaccettabile. Se fosse stato fatto da una casa minore avrei detto davvero tanto di cappello, bravi, buon lavoro, ma per Disney e soprattutto per un'occasione così importante è un no. Il film, come ho detto, è debole e risulta acerbo, anche più di Elemental. Gli serviva un po' di tempo in più per essere ragionato meglio e migliorato. Vado un po' più nel dettaglio. Animazione e grafica sono belle, ma un po' anonime. Avevo sentito dire che erano state realizzate in modo particolare, che cambiavano spesso e tutto ciò io non l'ho visto. La protagonista è molto piatta, hanno cercato di darle caratteristiche accattivanti, ma sinceramente io ho trovato molto più interessante tutto il suo gruppo di amici. Davvero, loro li ho adorati. Magnifico è un villain che mi ha convinto a metà. Si vede che volevano proporci un cattivo come non se ne vedevano da tanto, solo che con il finale che gli hanno dato risulta un po' patetico. Per farvi capire credo che nell'intento volessero fare un cattivo carismatico alla Ursula, Jafar e company, però nei fatti a me come risultato sembra un po' Hans. Tra l'altro, spoiler, vorrei sottolineare l'assoluta mancanza di conflitto sul finale tra Magnifico e la sua regina. Per chi ha visto il film, lei nel finale lo sbatte nelle segrete con un sorrisetto ed enorme soddisfazione. E se avessero gestito bene la cosa poteva anche starci, ma prima la regina ci è stata presentata come una consorte devota e premurosa. Non solo, c'è anche un'altra scena, la prima in cui Magnifico è tentato di usare il libro della magia nera, che lei lo dissuade. Lui le dà ascolto. Ho capito che poi è cambiato, ho capito che viene detto che una volta usata la magia nera non si torna più indietro, ho capito che ti sei voluta schierare dalla parte del bene, ma è comunque l'uomo che hai sposato. Quindi una bella frase ad effetto come Ormai non sei più l'uomo che conoscevo, guardi, rinchiudetelo, ci stava bene. Ma questo è solo uno dei tanti dettagli poco sviluppati che ci sono. Anche i retroscena di Magnifico sono molto nebulosi, come la razza che contempla spesso e cosa gli è successo davvero nella sua terra natia. Le tempistiche poi sono un po' così così, la creazione del conflitto, così come la sua risoluzione, sono un po' sbrigativi e per questo risultano leggermente anticlimatici. Tutti segnali che c'è stata una certa fretta nella produzione, secondo me. Basti pensare che in origine Star, la stella, non era così, non aveva questo design che sinceramente non mi ha fatto impazzire. È come se avessero scelto di andare sul cute ma banale per, non so, vendere pupazzetti? Non scherzo, al cinema li vendevano. Alcuni di voi magari lo sanno, doveva essere un ragazzo. E pensate quanto sarebbe potuto essere figo vedere un epico scontro magico tra questo personaggio e Re Magnifico. Eh, ma così Asha passava in secondo piano e non sconfiggeva direttamente il cattivo, mi dirà qualcuno di voi. Eh no, nel film Asha sconfigge Magnifico ispirando il popolo di Rosas ed unendolo. Pensate se lei avesse fatto lo stesso in un momento in cui il ragazzo stella magari stava avendola peggio. E se solo grazie a lei che ha ispirato tutti quanti alla fine avesse avuto la forza di sconfiggere il male? Secondo me avrebbe dato tutto un altro tono. E lo stesso vale per il finale. Infatti Asha nelle intenzioni originali si sarebbe innamorata di questo ragazzo. Immaginate se avesse avuto lo stesso finale ma con questo dettaglio, ovvero lui che le fa dono della bacchetta ma che purtroppo non può restare. Lo sentite anche voi che è molto più profondo. C'è un altro tipo di carico emotivo? In conclusione per me questo film è stato un po' un'occasione sprecata. Ripeto, non è brutto. Non vi consiglio proprio di andarlo a vedere al cinema ma se volete recuperarlo in seguito secondo me potreste trovarlo gradevole. Noi però abbiamo un ulteriore malus e non è da sottovalutare purtroppo. Sì, eccoci arrivati a parlare di doppiaggio. E procediamo nell'ordine dal migliore al peggiore come avevo fatto l'altra volta perché tanto è rimasto uguale. Michele Riondino nei panni di Re Magnifico se l'è cavata. Essendo un attore almeno sul lato interpretazione era avvantaggiato. Si vedeva un po' in alcuni momenti che alcune reazioni mancavano di energia ed io penso che sia dovuto al fatto che siccome non padroneggia a pieno la tecnica ha sacrificato parte della concentrazione che gli serviva per l'interpretazione in favore di quella per rispettare il labiale, l'intonazione eccetera eccetera. Un professionista avrebbe fatto di meglio ovviamente ma non è assolutamente un doppiaggio da buttare. Bravo Michele. Per Valentino la capra un po' speravo che Amadeus ci regalasse un effetto Enrico Papi con Mushu, Fabrizio Frizzi con Woody ma no. Amadeus purtroppo lo boccio. Troppo altalenante, alcune parti decenti altre molto forzate. Per dire Valentino è a tutti gli effetti la spalla comica del film ma quando diceva alcune battute io realizzavo che era qualcosa di divertente. Sapevo che avrei dovuto ridere ma non ridevo perché era stato detto con una cadenza un po' troppo strana, poco naturale. E per ultima abbiamo Gaia Gozzi nei panni di Asha e trovo difficilissimo anche solo parlarne. Le riconosco un certo impegno ma il risultato finale purtroppo è indecente. Forzata come poche cose al mondo. Non solo, dopo un po' che stavo cringiando male ogni volta che la sentivo, una volta superato lo shock iniziale mi è dispiaciuto per lei. Sapete perché? Perché ho percepito ansia. Era come se per tutto il tempo si chiedesse ok sto facendo bene? L'ho detta bene questa battuta? Ma il peggio erano le scene in cui parlava con i suoi amici e ce ne sono parecchie perché lì si sentiva tutto il divario che c'era tra loro un abisso ed era raggelante. Cioè per dire a doppiare quei personaggi c'era gente che doppiava fra un po' fin da quando era in culla. Alex Polidori che ci ha fatto sognare quando eravamo bambini dando la voce a coda, a Nemo, Gabriele Patriarca, lui ha interpretato Pallino, il gattino della gabbianella e il gatto. E negli anni loro come quasi tutti gli altri sono diventati dei mostri di bravura. Ogni tanto però vedevo Gaia trasformarsi completamente quando iniziava a cantare. Ed è lì che mi sono ricordato cosa ci stava a fare e cosa avrebbero dovuto farle fare. Premettendo che le canzoni di Wish non mi fanno impazzire, nel senso belle ma non mi sono rimaste, per dire con Encanto le cantichiavo già uscendo dal cinema, lei ha una bella voce. Non solo, ha una voce molto Disney, molto da principessa Disney. Quindi in quei momenti mi veniva giustamente da dirle tesoro smettila di parlare ti prego, canta per il resto del film. E questo è quanto, però oggi vorrei fare qualcosa che non faccio mai. Risponderò ad un commento che ho ricevuto da parte di una persona che ha un'opinione diversa dalla mia. Ovviamente non metterò il suo nome perché non voglio creare drammi, anzi vi chiedo gentilmente se doveste ritrovare il commento di non essere sgarbati, perché sennò passate voi dalla parte del torto. Comunque perché rispondo? Perché sebbene non sia d'accordo con la sua opinione, è la sua opinione, ci mancherebbe. Tuttavia nell'esprimerla ha fatto una cosa che non mi piace sinceramente, ovvero ha sminuito la mia. Ve lo leggo. Io vado controcorrente. Prima di vedere questo video di critica nei confronti del doppiaggio avevo visto il trailer di Wish, devo dire anche con una certa attenzione proprio perché avevo letto che il doppiaggio era stato eseguito da Gaia, che doppiatrice non è, o meglio non lo era prima di questo film. Eh, no, per come la vedo io non lo è lo stesso. Secondo me non basta aver doppiato qualcosa per essere definiti doppiatori. Secondo questa logica allora attualmente anche Mahmood è un doppiatore. Ma lo chiedo anche a voi, ve la sentireste di definirlo tale? O peggio ancora, dal momento che ha dato la voce al coprotagonista in Gladiatori di Roma, allora anche Belen Rodriguez è una doppiatrice? Proseguiamo. Devo dire che, almeno sulla base del trailer, le critiche mi sembravano veramente immotivate. Tua opinione, ci sta. A mio giudizio ha doppiato decisamente bene la protagonista. Ottima anche la prestazione canora, ma questo era già più scontato. Anche se in generale non vado pazzo per le canzoni Disney. Pensare che l'abbiano scelta per il doppiaggio solo per motivi commerciali ha poco senso, perché il suo nome in locandina come cantante ci sarebbe comunque stato. Eh, sì, ma non proprio. Nel senso, scrivere in un riquadro da qualche parte con le canzoni di Tizio Caio fa un effetto diverso per i fan rispetto al metterlo in primo piano scrivendo Tizio Caio è questo personaggio. Possibile che a nessuno venga in mente che sia stata scelta semplicemente perché la produzione l'ha ritenuta brava e meritevole dell'incarico? Se così fosse stato, non avrei avuto nulla da ridire. Se un talent viene scelto accuratamente per un ruolo, io alzo le mani. Vedi Luca e Paolo e tanti altri bravissimi come loro. Non è il caso di Gaia purtroppo. Senza considerare che io ritengo un plus e non un minus il fatto che doppiaggio e le canzoni siano affidate allo stesso soggetto. Questo mi va bene perché è soggettivo. A me per esempio non dà fastidio se le parti cantate e recitate sono fatte da persone diverse. Se scelte con cura non me ne accorgo nemmeno, ma ripeto, è soggettivo. In definitiva, so che dirò qualcosa che a qualcuno non piacerà, ma in questo video ci vedo molta volontà di criticare fine a se stessa. Mi dispiace che tu abbia pensato che lo fosse, ma non è così. Io stavo criticando questa moda che sta andando avanti da un bel po' e non l'ho basata sul nulla perché ci sono stati parecchi precedenti di prodotti rovinati dal doppiaggio sbagliato. E il doppiaggio di Amadeus e Gaia per me ne è un chiaro esempio. E detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito. Fatemi sapere che cosa ne pensate, Wish io comunque non ve lo sconsiglio, se avete un po' di tempo libero guardatelo perché comunque è carino, e noi ci rivediamo in un prossimo video.